Complemento partitivo Complemento oggetto Complemento oggetto Invece il complemento partitivo è un'altra cosa che adesso vediamo insieme, ripassiamo insieme. Però questo ti ricorda anche quanto leggere attentamente le parole, imparare attentamente il significato delle parole è importante. Partiamo da una frase di esempio, come al solito. E' rimasto un pezzo di formaggio. Facciamo la nostra analisi. Chi è rimasto? Riconosciamo subito il predicato verbale. Ci facciamo la domanda chi compie l'azione di essere rimasto? Un pezzo. Quindi questo è il nostro soggetto. Di cosa? Questa è la domanda che viene spontaneo farci. Non è sbagliata. Ma se io non ragiono, la prima cosa che mi viene da rispondere è specificazione. Di che cosa? Di formaggio. Specificazione. E invece è sbagliato. Perché? Perché io qui non punto l'attenzione tanto sulla qualità di ciò che è rimasto, ma sulla quantità. Cioè, è rimasto tutto il formaggio? No, ne è rimasto solo un pezzo. Allora, il complemento partitivo. Che cosa mi indica? Indica l'insieme, il totale di cui io considero però solo una parte. Allora, di tutto il formaggio che c'era è rimasto solo un pezzo. Quindi, di formaggio indica il totale, l'insieme. Da questo totale io ho considerato soltanto un pezzo. Ho considerato soltanto una parte. Quindi indica il totale da cui prendo in considerazione solo una parte. Ecco perché si chiama partitivo. Quindi, un pezzo di tutto il formaggio che c'era è rimasto. Facciamo un altro esempio. Posso avere un po' della tua torta? Posso avere... Chi compie l'azione? Io. Io, soggetto sottointeso. posso avere... Posso avere... Che cosa? Un po' Complemento oggetto. Di che cosa? Della tua torta. La voglio tutta la tua torta? No. Io ne voglio soltanto un po'. Quindi, di tutta la torta, io ne voglio solo una parte. Quindi questo sarà Complemento Partitivo. Allora, ricapitolando. Il Complemento Partitivo, che assomiglia molto al Complemento di specificazione, indica l'insieme, che può essere un insieme di persone, di animali o di qualcosa, di cui però si considera soltanto una parte. Attenzione! Perché il Complemento Partitivo può essere introdotto anche da una particella pronominale, che abbiamo già trovato, la particella pronominale NE. Ecco perché, ripassiamo ancora questo concetto importante, tutte le volte che io trovo un pronome, io come prima cosa devo capire che cosa significa. Quindi devo esplicitarlo. Devo trovare un modo più chiaro per capire qual è il suo significato. Facciamo un esempio che va bene per questo caso. Sono interessanti questi racconti? Ne ho già letti due. Io qui ho due frasi. Ti ricordi? Abbiamo detto che, per prima cosa vado a trovare i verbi. Sono interessanti? Predicato nominale. Chi compie l'azione di essere interessante? Questi racconti, che quindi sarà il mio soggetto. Però io qui ho un altro verbo. Ho letto. Attenzione perché già non fa parte del verbo. Ho letto. Che è un predicato verbale perché voce del verbo legge. Chi compie l'azione di aver già letto? Io. Soggetto sottinteso. Bene. Dividiamole queste due frasi. Frase numero uno, frase numero due. La frase numero uno è a posto. Nella frase numero due, io ho la parolina ne. Cosa vuol dire questo ne? Io. Ho già letto due. Due che cosa? Due di quelli. Di essi. Ho esplicitato il significato della particella ne. Ecco che allora posso andare avanti a fare la mia analisi. Io soggetto. Ho letto. Che cosa? Due. Di essi. Di quei racconti lì. Di quei racconti che ho trovato interessanti. Li ho letti tutti? No. Di tutti i racconti. Io ne prendo in considerazione solo due. Quindi di quelli io ne ho presi in considerazione una parte. Due. Ma allora quel ne è un complemento partitivo. Quindi io posso avere il complemento partitivo in modo molto chiaro e esplicito come nel caso del formaggio o della tua torta. Ma posso anche averlo nascosto all'interno della particella ne. Bisogna sempre essere molto molto attenti.